Amici, spoiler 29 aprile, Isobelsi male al braccio, Malgioglio in via frecciatine. Il 27 aprile è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda il 29 aprile su Canale 5 a partire dalle 21 e 10 circa. Man mano che ci si avvicina al gran finale di questa edizione, le sfide si fanno sempre più impegnative. Il numero degli allievi si è ristretto particolarmente e i giudici hanno avuto modo di esprimere già le loro preferenze su ognuno. Nel corso del prossimo appuntamento con il serale, verranno affrontate le consuete tre manche, al termine delle quale si sfideranno al ballottaggio tra allievi. Tuttavia, a rischio eliminazione finiranno Crick e Aaron. Ospiti speciali saranno Enrico Brignano ed Emma Marrone. Durante la prossima puntata di Amici, i giudici affronteranno una gara di equilibrio per stabilire quale squadra inizierà la sfida. A vincere sarà Malgioglio, il quale riuscirà a camminare lungo un tappetino con dei libri in testa. Senza alcuna difficoltà. A rompere il ghiaccio sarà il team di Rudy e Alessandra. I quali sfideranno Lorella e Di Manuel. La prima manche avrà inizio con il guanto di sfida tra Maddalena e Isabella. Nel quale avrà la meglio quest'ultima, poiché riuscirà a fare una migliore interpretazione. A tal proposito, ci sarà un'accesa discussione tra i due insegnanti delle rispettive squadre. Il secondo punto sarà vinto da Angelina, mentre il terzo ed ultimo punto sarà segnato ad Aaron. Pertanto, finirà al ballottaggio finale Cricca. Nella seconda manche, invece, la squadra vincente sceglierà quella composta da Risa e Todaro. Tuttavia, saranno questi ultimi a vincere, schierando Wax e Mattia contro Aaron e Isabella. Finirà al ballottaggio finale Aaron. Purtroppo, però, nel corso dell'esibizione, la ballerina della maestra Celentano subirà un infortunio al braccio che la costringerà ad uscire dallo studio per gli opportuni accertamenti. Nella terza e ultima manche, la squadra vincente si scontrerà con Cuccarini e Lo. Saranno, però, questi ultimi a vincere la sfida, schierando Wax e Mattia contro Angelina e Maddalena. Tuttavia, sarà quest'ultima a finire al ballottaggio insieme ai due cantanti. Fortunatamente per lei. Sarà comunque la prima ad essere salvata. Quindi l'eliminato sarà Cricca o Aaron. Nel corso del prossimo appuntamento con il serale di amici, non mancherà l'atteso guanto di sfida tra i professori. Mentre Lorella Cuccarini e Di Man Uello punteranno nuovamente sulla sensualità, esibendosi con un passo a due, Arisa canterà. Accompagnata da una coreografia di Raimondo Todaro. Invece, Rudizio Erbi e Alessandra Celentano punteranno alla vittoria con l'allegria. Questa volta, infatti, la loro strategia risulterà essere vincente e otterranno, finalmente, il favore dei giudici. Durante le esibizioni di Maddalena, Malgioglio non potrà fare a meno di dimostrare tutta la sua ammirazione al punto che invierà delle frecciatine alla maestra Celentano. Le chiederà, infatti, se le occorre un binocolo per vedere la bravura della ballerina in questione.